La azione trascendente esiste veramente e non possiamo avere dubbi sull'interno del Contexto Divino. Il Divino, in realtà, è l'azione equale e contraria, affinché esiste dal primo principio di Dynamical Love, che è chiamato l'azione equale e contraria, o reazione. Dunque, alla base dell'evoluzione apparente dell'Universo, c'è l'azione divina e trascendente, equale e contraria, che, essendo trascendente, non appena appena, se non nella reazione equale e contraria, che formano la realità. Quindi, questo nostro Universo della realità è la reazione all'azione divina e trascendente, fatta dal contesto magnetico dell'antimatero, che è, dal contesto del povero spirito di tutto quello che non importa. Sono Romano Amodeo, da Italia. Grazie a tutti.